Sono orgoglioso di essermi fatto maggiorenne e spero di portare in onore questo obiettivo che tutti quanti, noi tifosi e noi società, vogliamo portare a casa. A vederlo così pare quasi innocuo, ma basta mettergli addosso una divisa e dargli a disposizione una fascia che Fabiano Parisi, da ragazzino appena diciottenne, si trasforma in un lupo famelico. 18 anni, lo scorso 9 novembre e tanta tanta voglia di mertersi in mostra. Un irpino che con questa maglia quest'anno ha fatto vedere davvero grandi cose, che sia Graziani o Bucaro, nessuno ha voluto rinunciare a lui in questo campionato così lungo e dispendioso. Sulla fascia sinistra ormai c'è ben impresso il suo nome e guai a levargliela. Attenzione che ha imparato a ringhiare la scuola, gliel'hanno fatta le 37 partite giocate, tradotti in 3.305 minuti, un'enormità. Solo due volte è stato a riposo, forzato, va senza dire, per una squalifica. Tre gli assist messi a segno, solo cinque volte sostituito in corsa. Undici le ammunizioni rimediate, segno che 18 anni sono solo sulla carta di identità. In campo c'è tutta un'altra storia da raccontare. Una storia fatta di sacrifici e di voglia di emergere, in una provincia in cui non è semplice diventare campioni. Fabiano Parisi è profeta in patria in questa stagione che gli ha dato tutto, dal primo fino all'ultimo fiato di Rieti. Senza dubbio il ragazzo ce l'ha fatto, con grinta, buona gamba ed abnegazione ed una sensibilità che hanno solo i numeri uno.